Grazie a tutti Grazie. Non lo faccio col ghiato. Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Paolo, arriva Paolo! Guarda Paolo, oh! La belchezza è prego da reggisci. Uno, quattro, tra. Lui gli dà uno spazio, non gli dà uno spazio, non gli dà uno scelto. ... direkt durante il nostro cattuale. ... Dentro degli dà uno, Modena... ...